Chiaramente c'è molto rammarico e c'è delusione per il punteggio finale, però volevo analizzare un po' la partita, capire se è più dispiaciuto per le tante palle gol non concretizzate o per la facilità con la quale il Verona riusciva a ripartire? Un po' tutte e due le cose, nel senso che quando tu hai l'occasione di passare il vantaggio su un campo così devi cercare di sfruttarle, perché non sono state una, sono state diverse palle gol e non siamo stati concreti. Poi la fase di non possesso palla non l'abbiamo fatta bene, penso che ci servirà molto da lezione questa partita, ha messo a nudo un po' dove noi dobbiamo lavorare, dove qualche difficoltà ce l'abbiamo, perciò è una partita che ci potrà essere utile per il futuro, per capire cosa dobbiamo fare e cosa non dobbiamo fare. Frutto della stanchezza dei centrocampisti, frutto della bravura del Verona o di cosa questa facilità nel concedere le ripartenze? Un po' tutte e due le cose, però noi abbiamo preso tre gol su palla in uscita, palla nostra, persa palla e abbiamo preso tre gol in questo modo qui, questo è inconcepibile. Prendere tre gol uguali uno può succedere ma gli altri due no, ma sono degli errori che stiamo pagando caro e questo non va bene. Noi dobbiamo tornare a essere umili, determinati, aggressivi come siamo stati all'inizio, adesso dobbiamo ricomporci un attimo da questo punto di vista, riordinare bene le idee e cercare nella prossima partita di far bene. Meno belli ma più concreti. Ecco, meno belli ma più concreti, soprattutto lì davanti questa partita ha detto che Mancuso forse da numero 9 puro va meglio, visto anche come Monachello in un momento anche mentale un po' sfortunato. Ma Gaetano ha avuto diverse occasioni, non è riuscito a finalizzarle bene, ma chiaramente ho fatto questa scelta perché durante la settimana avevo visto bene tutti sia Mancuso che Gaetano Monachello, Mirko Antonucci era ancora, dopo era una settimana che era rientrato, mi sembrava non ancora pronto per fare una partita intera, perciò ho fatto questa scelta. Faccio l'ultima domanda, Pillon ieri in conferenza stampa ha detto ancora dobbiamo fare la riunione per parlare di mercati, io però le volevo chiedere se nel suo 11 ideale, nella sua formazione ideale Mancuso lo vede da numero 9 o da esterno? Può fare tutti e due i ruoli come ha sempre fatto. Meglio dove lo preferisce? Ripeto, va bene la prima punta, dove forse si esprime meglio e va bene anche come attaccante. Servirà un esterno? No, questi anni ne abbiamo, dipende da tante cose, adesso non ho la testa da pensare a queste cose qua, al mercato, vedremo poi cosa succederà, cosa dirà. Lui sono arrabbiato? No, sono molto arrabbiato questa sera, sì molto.